Il vicepresidente del Consiglio regionale Nino Marmo è convinto dell'impraticabilità delle primarie il 23 novembre, ma l'immobilismo in cui il centrodestra è incolpevolmente lasciato, come egli stesso riferisce, va duramente condannato. Mentre i giorni passano, Marmo lancia una proposta che Schittulli accoglie, ma da estendere agli altri partiti della coalizione, anziché il 23 novembre vogliamo celebrare le primarie il 14 dicembre. Marmo, a suo dire, chiede comunque maggiore chiarezza, soprattutto agli alleati, a cui chiede di dire con chi stanno, senza aspettare l'esito delle primarie del centrosinistra. Tra i due candidati del centrodestra torna il sereno dopo le scaramucce dei giorni scorsi. Ci sono momenti in cui in politica si parla la stessa lingua, ma le vicende travolgono le parole e creano equivoci inutili e dannosi. È quello che è avvenuto l'altro giorno tra Schittulli e il vicepresidente del Consiglio Marmo. La reazione di quest'ultimo all'invito del presidente della provincia a fare presto a non perdere ulteriore tempo prezioso per dare ai pugliesi quella discontinuità, la disastrosa attività del governo regionale per dieci anni a trazione PD è stato sicuramente fonte di fraintendimenti proprio con colui con il quale Schittulli sta condividendo questa stagione del centrodestra. Entrambi sono a favore delle primarie. Ci siamo candidati anzitempo, ha osservato Schittulli, proprio nella speranza che la coalizione tenesse fede a quella data, il 23 novembre, che il tavolo politico del centrodestra aveva stabilito. Entrambi siamo convinti che solo una coalizione coese e ampia può davvero rendere la vittoria possibile e reale. Entrambi convengono che la via delle primarie entro due settimane è di fatto impraticabile. Il movimento politico sarà comunque sempre presente al tavolo delle trattative. Qualsiasi decisione, ha detto Schittulli, noi la accetteremo. È proprio a quel tavolo che rappresenta tutte le forze politiche del centrodestra. Il presidente della provincia rinnova l'invito a far presto. Alle regionali mancano solo quattro mesi.